interessanti. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa, vediamo. È arrivato il gol che aumenta i loro vantaggi. È un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza. Scaricato in rete una bottata ricidiale. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano un missile che è il portiere. Non ha visto nemmeno partire.